Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santo Padre Benedetto XVI, in questo ultimo giorno dell'anno, Tu ci hai lasciato e il nostro cuore piange per la Tua assenza. Ma siamo certi che in questo giorno di sabato, dedicato alla Vergine Maria, Lei sia venuta a prenderti per mano. Caro Papa, tanto timore c'è nel nostro cuore per l'inizio del nuovo anno. Privi ormai della Tua forte e costante preghiera per tutti noi. Ma ora dal cielo vieni a proteggerci, aiutarci, guidarci e difenderci da ogni male. Caro Benedetto XVI, Tu che hai scelto il nome di San Benedetto da Norcia, terrore dei demoni, Tu che nella Tua vita sei stato forte e combattivo contro il maligno, vieni a proteggerci contro ogni male, in ogni giorno di questo anno. A Te, che rifugierai tra i Santi del Cielo, consegniamo oggi questo nuovo anno. Donaci la Tua forza e il Tuo coraggio per difendere Gesù e la nostra fede. Ora, caro Benedetto XVI, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Benedetto da Norcia, allontana il maligno dalla nostra casa, dalla nostra famiglia, da questo anno e da tutta la nostra vita. Leggiamo la letterina di Natale del piccolo Joseph Ratzinger a Gesù Bambino, scritta nel 1934. Caro Bambino Gesù, presto scenderai sulla terra, porterai gioia ai bambini, anche a me porterai gioia. Vorrei il Vox Scott, una casula per la Messa Verde e un cuore di Gesù. Sarò sempre bravo. Cari saluti Da Joseph Ratzinger Nella letterina d'Atalizia, scritta con la caratteristica caligrafia corsiva di quei tempi, Joseph Ratzinger aveva espresso tre desideri. Lo Scott era uno dei primi libri di preghiere con il messale in lingua tedesca con testo a fronte in latino. All'epoca in Germania c'erano due edizioni, una per adulti e una per bambini e il piccolo Joseph, proprio attraverso quel libretto, aveva iniziato ad amare la liturgia. I volumetti che di volta in volta riceveva, ha raccontato Benedetto XVI nella sua biografia, erano qualcosa di prezioso. Come non potevo sognarli di più belli. Poi aveva chiesto un paramento per celebrare la Messa. Ai fratelli Ratzinger piaceva infatti fare il gioco del parroco con i paramenti preparati dalla madre. Si celebrava la Messa, ha narrato il fratello Monsignor George Ratzinger in un'intervista del 2011 e avevamo delle casole fatte dalla sarta della mamma proprio per noi e una alla volta, a turno, eravamo il ministrante e il chirichetto. La terza richiesta, infine, era un cuore di Gesù, un'immagine del sacro cuore a cui era molto devota tutta la famiglia Ratzinger. gelosamente conservata dalla sorella Maria, la letterina del piccolo Joseph, è stata ritrovata durante i lavori di ristrutturazione della casa di Benedetto XVI in Baviera, oggi trasformata in un museo. Papa Benedetto prega per noi.